Siamo incostanti anche voi, rinforzati dai fratelli, perché la venuta del Signore è vicino. Non lamentate i fratelli e i figli e gli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è a riportere. Fratelli, prendete a moverno in subcontrazione, in distanza, i profeti, che hanno margato nel nome del Signore. Parola di Dio. E abbiamo grazie a Dio. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia.